Il FAMI ha l'obiettivo di promuovere programmi e strategie di rimpatrio volontario assistito, contrastare l'immigrazione illegale attraverso il potenziamento delle operazioni di rimpatrio forzato. Abbiamo finanziato 19 progetti di rimpatrio, impegnando l'82,2% delle risorse disponibili. Abbiamo rimpatriato le persone migranti nell'ambito di interventi di rimpatrio forzato. È previsto il rimpatrio forzato di altre persone migranti nell'ambito del progetto in corso. Abbiamo sostenuto l'autorità garante dei detenuti nel monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato. Le operazioni sono state monitorate. Abbiamo realizzato un progetto volto a rafforzare gli interventi di rimpatrio volontario assistito con reintegrazione e la rete nazionale per il rimpatrio volontario assistito. Abbiamo promosso una campagna di comunicazione integrata sul rimpatrio volontario assistito. Grazie al programma di rimpatrio volontario assistito ho creato a casa il futuro della mia famiglia. Abbiamo rimpatriato le persone migranti nell'ambito di progetti di rimpatrio volontario assistito con reintegrazione. Abbiamo informato e sensibilizzato sul rimpatrio volontario assistito le persone migranti e gli operatori e stakeholders del settore.